Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Per Super Mario I famosissimi Mario Kaizo O Kaizo Mario Che sembra quasi una brolaccia Però non lo è Si chiama proprio così Proprio quando lo capisco Niente Dannazione Ti fa arrabbiare una cosa del genere Ti fa incappocciare Calmo come il Buddha Nooo Oh si si invece si 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 Cosa? No 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 Dai Avevo capito che no Che disgrazia Progressi però Progressi almeno quello Il problema ora è tornarci lì Oh 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 Ma è molto più facile allora No però deve sbattere di là Deve sbattere Cavolo Così è più facile Però abbeccarcele Ma me No dopo dovrei bloccarmi ma La spinta è talmente tanta Che non ce la fai Oh che cavolo E vai Primo livello Della Della sfida difficile Non ce l'ho fatta Super difficile Attenzione Mario parte all'avventura E quando torna Peach Non si sa perché Ma potrebbe anche tornare Dopo questo primo livello Visto che Prima è andata malissimo Quindi Insomma Rising lava Falling crates Oh mio Dio Oh no Forse questo già l'ho visto Oh mio Dio Questo Può essere che l'ho visto Aggiungi il traguardo Senza toccare terra Dopo un salto Ah si Ma come Oh madonna L'altro giorno stavo giocando Un livello del genere Ci ho sclerato tantissimo Perché non riuscivo a capire Dove sbagliassi Poi alla fine ho capito Che bisognava solo aspettare Ma Dopo mezz'ora Però devo riuscire a capire bene Quando Ah quindi lui qui sale da solo Non può essere soddisfatta Perché Il problema è che Se lui sta Se lui rimane per aria Anche sospeso Quando tocca terra È come se fosse un salto Ma non ha nessunissimo senso Perché non ha saltato Continuiamo ad aspettare Che cosa devo fare Devo correre dopo Perché c'è il tuompo lì No Devo correre indietro Perché Il tuompo va fino in mezzo alla lava E siccome In super In 3D world Non ti fai male Se vai sul tuompo Quindi Penso che si possa fare In questa maniera Quindi devo attirare Il tuompo Ma eccolo Perfetto Ok Stavo per commettere Un terribile sbaglio Oh Oh cavolo No No Oh cavolo Devo lanciarle in mezzo alla lava Ma perché non l'ho fatto L'avevo capito Però non riuscivo A capire perché Non riuscissi a farlo Ero bloccato Ma sono stupido proprio Vabbè Questo è andato di fatto Non è che No non c'ho voglia di fare Aspettare ogni volta ragazzi Era noioso Mamma mia Sei annoioso Se poi Poi arrivi a metà Perdi E devi rifare da capo No Non c'ho voglia Aspettare Impossible death run Eh Quindi si corre Ok Mi piacciono i livelli dove si corre Ok Oh yes Mi piacciono un sacco i livelli con gli switch Ah cavoli Qua bisogna invece Premere il tasto R Perché Questo non è 3D world Ma è new Magari Prendendo anche il primo Perché se non prendo il primo Gli altri col cavolo Che lo prendo Che riprendo Però mi piacciono molto i livelli con gli switch Il problema è che Mario perde molta velocità Mentre salta Perde due frame almeno E scivolandolline perdi un altro Devo saltare prima Devo saltare Praticamente Quando scendo Un passo sul blocco E poi salto Ok Capito Cacchiarola Vedi Vedi Poi lì un altro Un altro salto da vite Ok Bene 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 Almeno ho un po' di progressi Vedo quello che c'è da fare dopo Dannazione Cavolo Vabbè però ho capito È carino come il livello Dai È carino È fattibile È carino Dai Porca zozza Va bene So quale sto da prendere Il problema è se riesco a farlo Quel salto Ok Voglio andare qui ma Cazzo Ma dai C'è una cosa che mi chiedo Io perché quando guardo i video degli altri Tutti i livelli fattibili E quando gioco io Tutti quanti i livelli impossibili Che muori in punti Dove non dovresti morire Perché Io questo mi chiedo Ok Ma dai Ma non è possibile No non è Non ci credo Cioè io sono riuscito a completare Il livello più difficile Di Super Mario Maker 1 C'era solo lo 0,01% Di completamento E io non riesco a fare questo ora Si ci ho speso Oltre 100 vite Però Cavolo Oshikoruzu Wibu No no Già partiamo male Se partiamo così Non ci capisco niente Un livello per te Grazie Corto ma bello Gibes Uh ho capito Se riuscissi ad arrivare lì però Concept per i livelli Ok Il cateniaccio è sciolto E muoio Perché non dovevo saltare Ah perché rimane bloccato C'era lo switch on and off Non l'ho visto Fino a che non ci ho sbattuto contro Non l'ha toccata Non è vero Allora fammi capire bene Devo prenderlo l'osso Oppure no Ma perché Perché è morto Da s***o Proprio Perché Ma no Ma no Ma no Ma no Il peggior giocatore Di Super Mario Maker Al mondo Ora vado a piangere In un angolino Buio E freddo Ciao Allora vado a piangere Grazie.